Ordini dello starter, Andrea. Tutto è pronto. Partiti. Il Predatore in corda su fuoriluogo che accetta la pressione e passa, ma meglio fa nella frazione Bint Kodiak che agisce ora dal frontrunner. I due Kodiak davanti, Bint all'interno di fuoriluogo in terza posizione. Dietro ai due ci sono Sharara all'esterno di Flash Lucky. E poi il Predatore e Tutil, un terzetto in coda sulla curva Bint Kodiak fuoriluogo. In terza Flash Lucky, virtualmente in quarta Sharara di dentro il Predatore in coda a tiro Tutil quando si inizia ad allungare a 600 metri dal palo. Fuoriluogo insegue Bint Kodiak e si mantiene ancora un avanti al rivale. In terza corsia Flash Lucky, poi il Predatore, Sharara e Tutil con Bint Kodiak e va via di gas. Fuoriluogo prova l'avvicinamento, Bint contro fuori, i due abbastanza vicini, c'è ancora tre quarti da recuperare. Fuoriluogo che sfera l'attacco, Bint Kodiak prepara la difesa, Bint contro fuoriluogo, testa a testa, favorito e contro. Bint contro fuoriluogo, Bint ancora qualcosina da gestire, fuoriluogo insiste, a fil di palo, fuoriluogo insiste. E batte Bint Kodiak, terzo Flash Lucky. 1-2-5, improbabile ordine d'arrivo, vittoria di Gavino Sanna per Marco Gasparini. Fuoriluogo la femmina da Kodiak, batte la sorellastra in questo caso, che se l'è giocata in testa, ma è stata vulnerabile. A 50 dal palo, terzo alla fine nella corsa degli altri, nella volata.